Con questo è tutto, linea allo studio. La protesta dei buoni pasto, commercianti e grande distribuzione oggi non hanno accettato i ticket. Commissioni troppo alte, dicono. Le associazioni dei consumatori diserteremo la spesa. Vediamo il servizio. Abbiamo deciso questa protesta perché le commissioni sono troppo alte, sono diventate insostenibili. Niente spesa con i buoni pasto, la grande distribuzione, le associazioni del commercio hanno indetto lo sciopero del ticket. Le commissioni sono troppo alte, dicono. L'attuale sistema impone commissioni non eque. Le più alte d'Europa, ben il 20% per ogni buono. Una vera e propria tassa occulta che grava pesantemente sui bilanci di aziende della distribuzione e degli esercenti pubblici. Chiediamo una revisione radicale del meccanismo di gara, dove il criterio del massimo ribasso venga rivisto per salvaguardare quello che è il valore nominale del buono pasto lungo tutta la filiera. Contro le iniziative di oggi dei commercianti e della grande distribuzione, si sono schierate le associazioni dei consumatori che invitano le famiglie al controsciopero degli acquisti. La viceministra all'economia, Laura Castelli, ha annunciato a breve l'istituzione di un tavolo tecnico per trovare una soluzione.